Ben trovati, un nuovo appuntamento con questa trasmissione, 15 sorsi che serve a conoscere meglio quanti, meno male, hanno convissuto attraverso la televisione, il teatro, il cinema, ma anche la politica, la società, il percorso di una vita. Ma te posso dire una cosa? Allora, io non mi aspettavo, mi sono divertito, mi sono divertito, però ci siamo già staccati, però ci siamo divertiti, non me l'aspettavo, perché mi hai fatto dire una cosa che io non avrei detto mai per nessuno, quando mi sono sentito, però è una cosa, certo, bisogna dire, va bene, un libro dono te l'ha cattato mai? Sinceramente, un libro dono te l'ha cattato? Tu non hai legito mai un commerciante, ma che stai dicendo? Francesco, come l'evasco in Europa?